Buonasera e benvenuti al nostro Tg dalle vallate. La cronaca ci porta in Valdarno. Arrestata perché minacciava di morte il marito e successo è incisa Valdarno. Un uomo sposato da molti anni con una donna albanese ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine. Da qualche mese le cose tra i due non andavano bene fino ad arrivare all'altra sera quando la donna ha minacciato di uccidere il coniuge. Da qui la chiamata da parte del marito al 112. I carabinieri di incisa subito giunti sul posto sono intervenuti quando la donna teneva ancora in mano un fular con cui poco prima aveva minacciato di strangolarlo. L'uomo ha quindi preso di nuovo il coraggio di raccontare tutto ai carabinieri e dal quadro che ne è emerso è scattato l'arresto in flagranza della donna per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. La donna è stata tradotta presso la casa circondariale di Sollicciano dove si trova tuttora in attesa della convalida dell'arresto da parte del GIP. Incidente stamani a via Trieste a San Giovanni Valdarno dove un ciclista di 88 anni è stato investito da un'auto. Sul posto sono intervenuti l'automedica della Gruccia, la misericordia di Piandisco, l'elisoccorso Pegaso 1 e le forze dell'ordine. L'uomo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale della Gruccia dove è stato ricoverato in codice giallo. Rimaniamo ancora in Valdarno. Sarà visitabile fino al prossimo 4 febbraio presso gli spazi espositivi di casa Masaccio a San Giovanni la mostra dal titolo Passato e presente, la scatola di Dachau eccetera, nelle opere di Marco Fidolini, gli orrori della Shoah che rimandano purtroppo alla triste attualità odierna. Passato e presente, la scatola di Dachau eccetera. Questo è il titolo della mostra allestita negli spazi di casa Masaccio a San Giovanni Valdarno e che rimarrà visitabile fino al 4 febbraio. L'esposizione rientra nelle iniziative per il giorno della memoria che ricorre il 27 gennaio e propone alcune opere di Marco Fidolini, artista san Giovannese, realizzate fra il 2006 e il 2008, che rappresentano un viaggio dentro l'orrore di una delle più grandi tragedie della storia, quella della Shoah. Il messaggio che ne scaturisce è purtroppo quanto mai attuale in un mondo quell'odierno, funestato dalle guerre e dai conflitti. Il passato evidentemente spesso e viene dimenticato e noi abbiamo questa sorta di retorica a volte ipocrita perché ci indigniamo, piangiamo lì per lì e poi dimentichiamo tutto. In Palestina tirano le bombe, in Ucraina è la stessa cosa, quindi a che cosa è servita anche questa tragedia? Sembra che sia servita davvero a poco, insomma, quindi è un momento questo lavoro anche di riflessione su temi dell'attualità. I disegni in grafite e l'acqueforte ripropongono senza nessun filtro e senza nessun compromesso le immagini reali della Shoah e della ferruccia nazista. Le opere esposte sono state realizzate tra il 2006 e il 2008 eppure nonostante siano passati quasi oltre più di 15 anni mantengono ancora un'attualità e una lungimiranza e ci richiamano fino in fondo a ricordare e anche a evitare che tragedie storiche, le guerre, l'odio, il razzismo che è strisciante e si sta sempre più diffondendo non ci siano mai più e questo è un impegno che è richiesto a tutti noi. Ancora la cronaca tenta di togliersi la vita nella sua abitazione ma viene salvato dai carabinieri e è accaduto a Todi. Si tratta di un 45enne di origine albanese. L'uomo era rimasto solo dopo il divorzio dalla moglie, ha provato a tagliarsi le vene con un coltello a serramanico. Prima di tentare il suicidio ha telefonato a uno dei due figli minori per un ultimo saluto. quest'ultimo insieme agli altri familiari ha subito avvisato i carabinieri i quali sono giunti sul posto trovando il 45enne riverso in una pozza di sangue. Uno dei militari ha utilizzato la cintura dei pantaloni per fermare il sanguinamento. Sul posto è intervenuto il 118 che lo ha trasportato all'ospedale di Pantalla per le cure del caso. L'uomo è stato poi dichiarato fuori pericolo. Andiamo adesso a Cortona. Parliamo di Cortona Comics. Fissate le date della prossima edizione. La manifestazione dedicata al fumetto torna il 25 e il 26 maggio e il primo e il 2 giugno al centro convegni Sant'Agostino. Cortona Comics è una manifestazione attesa per la città etrusca. Non sarà a livello di altre rassegne del settore ormai consolidate come Luca Comics per esempio ma l'evento sta ritagliandosi uno spazio sempre crescente. Dopo il successo del 2023 sono state definite le date della seconda edizione. La rassegna torna il 25 e 26 maggio e il primo e il 2 giugno. Già nella prima edizione la manifestazione si è subito distinta nel panorama delle fiere del fumetto. Nei due fine settimana il centro convegni Sant'Agostino sarà il luogo di incontri con gli autori. Raddoppiano anche le mostre. Oltre ai consueti spazi nella sala centrale del Chiostro e alle sale del Palazzo Ferretti ci saranno altri due spazi dedicati. Aumentano anche i partner dalle realtà editoriali dedicate ai creatori di contenuti digitali sul mondo del fumetto. Tanta attenzione anche ai premi. Fermo restando il prestigioso Iac d'Oro dedicato alla memoria del grande Iacovitti se ne aggiungeranno altri dedicati ai grandi ospiti presenti in modo da celebrarne il lavoro e la carriera. Ci spostiamo adesso a Castiglione del Lago dove si è conclusa con successo la sesta edizione del Festival Arts Contemporanea. La rassegna ha avuto ospiti di rilevanza nazionale. È calato il sipario sulla sesta edizione del Festival Arts Contemporanea che ha avuto come tema 2024 le isole culturali. La manifestazione si è svolta a Castiglione del Lago. La rassegna si è confermato un connubio di arte, professionalità e mondanità puntando ad avere risonanza non solo regionale grazie alla presenza di personaggi che hanno dimostrato sensibilità in favore dell'umanità. Il Festival ha confermato di non essere un semplice contenitore da riempire in modo estemporaneo. È un percorso iniziato ormai sette anni fa e che quest'anno ha avuto come tema le isole culturali. Tra gli appuntamenti di questa edizione che hanno riscosso maggiore successo di pubblico quello con l'imprenditore Oscar Farinetti. Farinetti ha presentato il suo ultimo libro Dieci mosse per affrontare il futuro. Un libro che è una sorta di ponte, ha detto Farinetti, che unisce il passato, quello di tutti e il futuro, quello di ciascuno. In un mondo incerto e competitivo, spazzato da eventi di guerra, crisi politiche ed emergenze, spesso l'avvenire fa paura, ma c'è un modo preciso per non lasciarsene sopraffare. Progettarlo giorno per giorno, seguendo dieci semplici mosse. Lo dimostra, ha concluso Farinetti, un testimone di eccezione, Leonardo da Vinci, che le aveva già previste e provate tutte e che non a caso era un genio. Un'edizione quindi di successo che ha confermato l'interesse verso questa manifestazione. Lucignano, nel calendario dei Carabinieri 2024, il mese di ottobre infatti dedicato al paese della Valdichiana, uno dei borghi più belli d'Italia. Lucignano fa da sfondo all'immagine di due giovani carabinieri in divisa, una donna e un uomo, che attraversano Piazza San Francesco. Il calendario da tavolo dell'Arma dei Carabinieri 2024 è dedicato agli uomini in divisa che operano ogni giorno nei borghi più belli d'Italia, con un planning incentrato sul controllo del territorio. Andiamo adesso a Laverna. Al santuario è stato inaugurato un camminamento inclusivo in pietra serena liscia, che permette di raggiungere facilmente la Cappella delle Stimmate, un'opera che è stata aperta per l'ottavo centenario delle Stimmate di San Francesco e che rimarrà testimone di questo anniversario. Per la comunità francescana e anche naturalmente per il Monte Sacro della Verna, qui al santuario, un nuovo camminamento finanziato dalla Regione Toscana, che va a completare quello naturalmente anche con la provincia di Arezzo, che porterà e darà la possibilità a tutti, in questo momento particolare dell'ottocentesimo anniversario delle Stimmate di Francesco, di poter raggiungere proprio la Cappella delle Stimmate, un camminamento per i più fragili. Ricordo con i consiglieri regionali Ceccarelli, venimo qui, ci rendiamo conto, il fatto di poter dal parcheggio, in continuità, con una capacità strutturale adeguata, ovvero le pietre serene che consentono a tutte le carrozzine di poter passare in luoghi molto delicati. Siamo nel monastero e nel complesso francescano. Bello che rimanga come segno stabile anche di questo centenario, cioè permettere a chiunque, anche a difficoltà di diambulazione, di poter arrivare proprio nel cuore delle Stimmate. Ci sono anche tantissimi fiorentini che vengono a La Verna, tanti pellegrini che da Firenze, d'intorno di Firenze, frequentano abitualmente La Verna. Anche opere come queste aiutano a legare sempre di più il territorio della Verna, di chiusire di La Verna, i rapporti con il sindaco sono eccellenti, con la città di Firenze. È una delle opere più importanti che ho fatto da quando sono amministratore in questo comune. Ecco, questo sicuramente oggi è una giornata che rimarrà nella storia sia per l'ottocentenario di San Francesco, ma anche per aver inaugurato un camminamento che va veramente verso quella gente svantaggiata per poter percorrere a volte questi selciati. L'ultimo servizio viene da Pieve Santo Stefano perché ha riscosso tanti consensi il concerto natalizio a Pieve Santo Stefano. La tradizione a Pieve Santo Stefano è stata rispettata con il consueto gran concerto della Filarmonica Ermanno Brazzini. La location, come sempre, dà tradizione il Teatro Comunale Papini, dove lo storico sodalizio musicale Pievano, diretto dalla maestra Marta Paceschi, si è esibito con un programma vario e brioso che ha coinvolto il pubblico presente. L'occasione è stata anche quella per ascoltare i giovani allievi della Filar Music School Band, la scuola di musica della banda, che da qualche anno ha rilanciato tanti corsi musicali, coinvolgendo un numero sempre maggiore di giovani leve, tra le quali molti sono ormai divenuti componenti fissi, anche della banda giovanile provinciale. La Filarmonica Brazzini è anche reduce dal successo dello scorso 17 dicembre a Soci e vanta una storia plurisecolare le cui origini si perdono tra il XVII e il XVIII secolo. Insomma, un'ottima occasione, anche quest'anno, per ascoltare buona musica e festeggiare il 2024. Bene, con questo servizio termina questa edizione del nostro Tg delle Vallate. Grazie quindi della cortese attenzione, vi lasciamo in compagnia dei nostri programmi. Buonasera. Grazie a tutti.